Oh no, il bambino si è fatto male! Oh, era solo un sogno! Sono pronta! Questa mamma non permetterà niente a nessuno di far del male a suo figlio! Wow, è preparata ad ogni evenienza! Una vera guerriera! Ma i ragazzi non sembrano apprezzare molto! Ok, sei pronta per andare ora! Su, forza, andate! Che eroina! Oh, che bella giornata! Ma, oh no! No! Piccolo mio! Oh no! Veloce, mamma! Aiuta Dylan! Oh wow, ha tutto sotto controllo! Non ti preoccupare, amore mio, ci sono io! Ma dove sono i cerotti? Ops! Il bambino li ha usati tutti! Ma sono delle pastiglie! So cosa fare! Guardate! Così può andare bene! E ora chiudiamo con la corda! Oh? Da-da! Ottima idea, mamma! Ora il bambino può divertirsi e correre di nuovo! Che brava mamma! Ehi, papà! Prendi! Sì, lanciala! Ehi! No, no, no! Non in cucina! Ma sappiamo già che non l'ascolteranno! Infatti, nel momento in cui la mamma distoglie lo sguardo, sono pronte a giocare! Oh no! Dylan, stai bene? Ah, il mio occhio mi fa male! Oh no! Ssh! Cosa farai ora, papà? Questo non va bene! Uova? Attento, papà! Qual è il tuo piano? Cosa stai facendo? Ok, sei sicuro che aiuterà l'occhio di tuo figlio? Papà sembra fiducioso! Dai, vediamo! Che cosa? Dov'è l'altro uovo? Mamma, forse l'altro uovo è scappato! Dai, guarda meglio! Che cosa? Oh no! La mamma li ha beccati! Si arrabbierà? Oh wow! Aveva ragione, papà! Che cosa stavate facendo? Ottimo lavoro, ragazzi! Niente livido! Che giornata perfetta per il campeggio! Attento, Dylan! Il cavo della tenda! No! Papà, ottimo lavoro! E che bella presa! Ah, mamma! La tenda è caduta! Mamma, stai bene? Tubi galleggianti! Sa cosa fare! Wow! Ottima idea, mamma! Il ragazzo ora può tranquillamente correre in giro senza nessun problema! Ma come sarebbe il mondo senza questa mamma? Dylan! Dove sei? La mamma e papà non riescono a trovare Dylan! Dove sarà andato? Starà bene? Cosa facciamo? Vado a chiedere aiuto! 9, 1, 1! Ok! Aspetta! Ho un'idea! Quello è il giocattolo preferito di Dylan! Forse l'aiuterà a trovare Dylan! Il mio giocattolo! Dylan! Ha funzionato! Eccolo! Figliolo! Dove sei stato? Sei nei guai! Non devi più allontanarti! Hai capito? Ci hai fatto prendere un bello spavento! Aspettate! Il papà ha avuto un'idea! Oh! Il papà ha messo un campanellino sulla caviglia di Dylan! In modo che ora possano sempre sentire dove si trova! Bravo papà! Bella idea! Dylan! Ora puoi muoverti liberamente! E voi genitori! Potete finalmente rilassarvi! Ve lo meritate! Siamo dei genitori fantastici! Che caldo! Non ce la faccio più! Acqua! 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 Tieni amore! È calda! Cosa? Vediamo! È bollente! Oh mamma! Oh oh! L'acqua è calda! Ma non preoccupatevi! La mamma ha la sua acqua! Ma forse anche quella sarà calda, no? Mmm! Buona! Ma come? Come è possibile? Papà vuole conoscere il segreto della mamma! Versa un po' d'acqua nella bottiglia! Poi mettila nel congelatore e aspetta che si congeli! Poi tira fuori la bottiglia congelata e... Versa dell'altra acqua! E voilà! Perfetto! Che bella idea! Che cosa c'è di meglio di bere dell'acqua fredda in una giornata calda? Ma ora non c'è più niente da dare alla mamma! Oh no! L'acqua è finita! Mamma cosa berrai? Ecco che arriva il cibo! Tutti hanno molta fame! Ma papà vuole aggiungere un po' di spezie ai piatti! Ecco! La sua salsa preferita! Oh mamma! Forse è esagerato papà! Vabbè vediamo! Oh! È finito! Ok va bene! Oh questi papà! Dylan! Vieni a mangiare! Dylan non sa qual è il suo piatto! Oh no! Quello! È quello di papà! Con la salsa piccante! Aspetta! Fermati! Troppo tardi! Oh mamma! Hai fuoco! Cosa farà la mamma ora? Pensa! Pensa! Zucchero? Ecco! Sì! Ha funzionato! Lo zucchero ha allentato il piccante del tabasco! Ottima idea mamma! Che cosa? Zucchero? Sai che non è salutare! Soprattutto prima di mangiare! Oh papà! Faresti meglio non far arrabbiare la mamma ora! Mi dispiace! Mi dispiace! Ok! Io mangio eh! Scelta intelligente papà! Ecco un po' di camomilla per il mio amore! Oh grazie! Ma anche il bambino vuole qualcosa da bere! Ho un lecco lecco per il mio bambino! Ecco qui! Ah! E il mio dente! Oh no! Papà! Non farti prendere dal panico! Così non riuscirai a trovare il kit di emergenza! Oh no! Ha fatto cadere tutto per terra! Dai papà! Torna in te! Oh mamma! Sistemerò io! Come sempre! Aspetta! Una bustina di tè! Idea! Che cosa sta facendo? Oh! Prende la bustina di tè! La strizza! E poi... Oh! La mette sul dente dolorante! Wow mamma! Sembra che stia funzionando! Forte! Ottima idea! E ottimo suggerimento! Papà è ancora sotto sciocco! Dai papà! Bevi un po' di questa! Tranquillo! È tutto passato! La mamma ha risolto il problema! Cosa sta facendo la mamma? Anche Dylan la vuole aiutare! No no no! Per favore mamma! La mamma si è arresa! Oh che bel grembiule Dylan! Sì! Sembri un vero chef! Sì! Chef Dylan è pronto a cucinare! Ok! Gira l'insalata! E io farò il resto! Un coltello! È meglio spostarsi con questo! Perfetto mamma! Ora puoi continuare a tagliare le verdure! Oh! Cetriolo! Cosa sta succedendo? Le verdure stanno volando! Cosa succede? Dylan! Cosa stai facendo? Oh mamma! Dylan! Fermati! Il cibo deve rimanere nel piatto! Magari con un uovo andrà meglio! Dylan si sta un po' annoiando! È talmente annoiato che fa cadere l'uovo a terra! Oh! Dylan! Oh no! Non toccarlo! Ah! Troppo tardi! Oh no! Oh! L'uovo ha fatto venire un'idea in mente alla mamma! La ferita guarirà in un batter d'occhio! Oh! Ma cosa sta facendo? Beh! La mamma ha tutto sotto controllo! Va bene! Ora aspettiamo tre giorni! Ed eccoci al terzo giorno! E wow! La ferita è completamente guarita! Bravissima mamma! Sembra che papà e Dylan si stanno preparando per una grande avventura! Iniziamo bene! Questa è importante! Piastra per capelli? Perché ne hai bisogno? Papà per favore aiutami! Non oro! Per favore! Guarda che carino! Direi carinissimo! È ovvio che papà ti aiuterà! Ok! Vediamo! Che cosa? Perché non si gonfia? Ho un buco! Aiuto! Sto negando! Salvatemi! Oh no 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 no! Non posso permettere che accada! Devo sistemarlo! Oh mamma! Papà sta sistemando il salvagente! Ma non so se quel nostro adesivo funzionerà! No! Non credo proprio! Ma vediamo! La mamma ha qualcos'altro in mente! Sì mamma, per favore! Pensaci tu! Vediamo! So cosa fare! La mamma prende della carta da forno e la mette sul salvagente! Poi usa la piastra per capelli per sigillare il buco! Il caldo dovrebbe funzionare! Ma vediamo! Sì, ottima idea! Il buco è stato chiuso! La piastra per capelli ha salvato la vacanza! Wow! Incredibile! Questa verrà sicuramente con noi! Siamo pronti! Ora la famiglia è pronta per una vacanza sicura! Yeee! Ah! Ah! Eh!